L'età media di Bassanesi è attorno ai 50 anni e il dato è destinato a crescere in modo irreversibile. È il cosiddetto inverno demografico che affonda le proprie radici nel calo delle nascite e presenta una società sempre più anziana. Proprio agli anziani ha pensato il candidato del centrodestra alle prossime comunali. La mia idea è puntare molto su tutta una serie di servizi che noi dobbiamo dare ai nostri anziani. La popolazione, numeri alla mano, sarà una popolazione che invecchierà molto nei prossimi anni e quindi c'è bisogno di servizi, ma per fare i servizi bisogna fare una serie a pianificazione. Il progetto ad ampio raggio parte da un censimento degli anziani presenti sul territorio in modo da avere una fotografia della terza età bassanese. Poi spazio a un piano strutturato sulla necessità della popolazione. Riqualificare quello che è il centro anziani di Via da Ponte ma creare dei centri di aggregazione in ogni quartiere in modo da, anche attraverso i bandi che oggi ci sono a livello regionale e a livello nazionale mettere in pratica tutta una serie di attività per rendere i nostri nonni parte attiva della società anche attraverso forme di volontariato e di attivismo anche civico perché oggi la nostra società ha bisogno dei nostri anziani quindi su questo punteremo molto con un occhio particolare anche alle case di riposo. Per la terza età Finco è in programma progetti innovativi. L'idea è di creare delle social housing, che cosa sono? Sono degli spazi comuni dove ogni anziano ha degli spazi privati quindi magari la sua camera con un piccolo disimpegno e poi degli spazi comuni dove possono fare delle attività assieme e mangiano assieme, fanno delle attività ricreative, insomma proprio dei luoghi di aggregazione. Ci sono già dei modelli oggi, uno su tutti è Treviso e su questi modelli noi ovviamente ci baseremo. Per dare la massima attenzione possibile agli anziani verrà creato un assessorato su misura. Punteremo alla creazione di un assessorato alla longevità quindi chi avrà il compito di gestire il sociale dovrà occuparsi anche di tutto il tema degli anziani quindi su questo stiamo facendo veramente un lavoro e programmando un lavoro importante per i prossimi dieci anni a Bassano dal Grappa.